Sabato alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di Montevarchi andrà in scena l'ultima giornata della prima fase del campionato di Serie C Gold. La Fides Montevarchi ospiterà la Mesquala Baschettarezzo nel derby di ritorno di questa stagione. Entrambe le formazioni saranno costrette a giocarsi la permanenza in categoria nella seconda fase che prenderà il via dal 25 aprile e che comunque vedrà Amen e Fides incontrarsi nuovamente. Il quintetto Amaranto con la vittoria sulla Sinergy dello scorso sabato si presenta in Valdarno, reduce da due vittorie consecutive e il terzo posto in classifica, posizione che l'Amen cercherà di mantenere dall'assalto di Montevarchi e della stessa Sinergy e che darà un minimo vantaggio nella composizione del calendario della seconda fase dove verranno affrontate anche le ultime tre classificate degli altri gironi. Un motivo in più dunque per giocare con determinazione questa sfida che fatta eccezione per la gara di andata dove l'Amen si è imposta per 85-69, negli ultimi anni ha regalato molte amarezze e colori Amaranto. La palla due iniziale sarà alzata dai signori Corso e Salvo di Pisa con l'incontro che sarà visibile anche grazie alla diretta streaming realizzata dalla formazione di casa. Il weekend agonistico della SBA vedrà poi scendere in campo anche altre tre formazioni. Domenica alle 17 la Chimet Under 15 eccellenza sarà impegnata sul campo del Reggello, mentre sempre domenica ma alle 18 il Palace Portestra vedrà un altro derby a retino nel campionato di Serie D. L'Amen Scuola Basket ospiterà infatti la polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno. A chiudere gli impegni della Scuola Basket Arezzo di questa settimana sarà infine il posticipo di mercoledì 21 aprile, quando la Tecno Islander 18 eccellenza farà visita all'Olimpia Legnaia di Firenze per la seconda giornata del Girone B di questo campionato.